Circa 300 migranti in arrivo nell'agro, questo quanto emerso dalla riunione urgente indetta ieri pomeriggio dal prefetto di Salerno Salvatore Malfi che ha invitato a partecipare tutti i sindaci o loro delegati delle politiche sociali afferenti al territorio provinciale. Il criterio scelto è quello degli ambiti, cioè far giungere i migranti dividendoli poi per ambito distrettuale. Il numero minimo previsto è di 100 migranti assegnati per ogni ambito che facendo un rapido calcolo significherebbe nell'agro 25 migranti da accogliere per ogni comune per un totale di 300 persone. L'incontro di ieri fa intendere che sono imminenti altri sbarchi al porto di Salerno delle cosiddette navi della speranza. Restano però dubbi sull'organizzazione e la gestione dell'accoglienza. Quanti saranno in totale gli immigrati che dovranno rimanere nel territorio provinciale e anche nell'agro? Dove saranno dislocati? Ci sono strutture capaci di accogliere o sono già tutte sature e in difficoltà? Punti di domanda naturali, anche se gli amministratori si sono detti disponibili dopo l'invito del prefetto. Un netto e deciso sì è arrivato dal sindaco di Pagani Salvatore Bottone che si è detto d'accordo pronto a mettere in moto la macchina dell'accoglienza. Come si diceva, durante il vertice è stato scelto il criterio per organizzare l'arrivo dei migranti e la loro accoglienza in provincia. La suddivisione avverrà per ambito territoriale distrettuale. Alla riunione ha partecipato anche l'assessore alle politiche sociali del comune di Nociari Inferiore, Saverio D'Alessio, che si è detto favorevole al criterio scelto, anche se non si è tenuta in considerazione una problematica relativa all'impatto da un punto di vista della densità abitativa. Nelle aree a sud della provincia di Salerno l'accoglienza di 100 migranti per ogni ambito avrebbe certamente un'influenza diversa rispetto alle aree a nord di Salerno, cioè quelle più popolose, ha detto D'Alessio. In soldoni la riunione di ieri ha in pratica fatto intendere che a brevissimo ci saranno nuovi sbarchi e che nell'agro giungeranno in totale 300 o più migranti che dovranno essere accolti, divisi per le 12 città coinvolte e quindi 25 per ogni comune. Grazie. 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 Grazie.